Croce Blu presente sul territorio dal 2003, oggi festeggia naturalmente un'iniziativa importante da parte della Fondazione Molinari di Chessitra. Sì, ringraziamo innanzitutto la Fondazione che ci ha consentito di acquistare questa ambulanza, che comunque è un bel regalo per i nostri dieci anni, perché quest'anno cadono i nostri dieci anni dalla Fondazione e ci permetterà di lavorare ancora sul territorio in maniera più ottimale, offrendo i nostri servizi con un mezzo che comunque ha pochi anni e anche pochi chilometri sulle spalle. Quindi è una cosa importante che loro ci hanno aiutato a realizzare questa cosa. Ecco, un mezzo importante. Quali i vostri interventi più significativi? Perché abbiamo già detto siete presenti non solo nel territorio Civitavecchia, ma a Largo Aranjo, anche sino a Roma, per importanti eventi. Sì, abbiamo fatto delle manifestazioni come la Maratona di Roma, che è una cosa a livello internazionale. Facciamo dei trasporti anche nazionali, ma anche internazionali, perché siamo stati in Svizzera a portare un paziente. Abbiamo fatto l'assistenza per la Guardia di Finanza, scuole allievi ufficiali, per le prove fisiche sportive, per gli aspiranti allievi. Un'altra importante donazione che si colloca in quelle tante, numerose, che sono state realizzate nel corso degli anni, dieci anni circa, mi pare di ricordare, della Costituzione della Fondazione. Sì, ne siamo molto orgogliosi. Ci piace essere vicino al territorio e ci piace soprattutto essere vicino ai volontari, alle persone che fanno del bene, che aiutano alla crescita dei nostri ragazzi, che sono vicini ai campi da calcio, qualora ce ne fosse bisogno, piuttosto che di rugby e di altri sport. Siamo veramente fieri di aiutare la crescita del territorio, nonostante un periodo di crisi e travagliato come quello che stiamo avendo, però è veramente un piacere sopperire a quelle che a volte sono le mancanze dello Stato sociale e lo facciamo con estremo piacere. Quindi è un impegno che si rinnova, certamente è una costante nel tempo. Sì, senz'altro. Vogliamo seguire l'esempio di mia zia che ha fondato la fondazione già una decina di anni fa. Prima aveva più un'impronta di carattere scientifico, aiutava la ricerca scientifica. Adesso abbiamo deciso di avvicinarsi proprio più al volontariato e al bene, non che la scienza non sia un bene, però credo che quando c'è necessità è bene mettere le risorse sul territorio.